Diego, un esordio del genere, lo speravi, lo sognavi, addirittura col gol è un'ottima prestazione. Sì, io credo che è perfetto, è una vittoria, è la qualificazione per il prossimo turno, abbiamo giocato bene, dobbiamo migliorare, però penso che sia andata bene così, perché dopo due mesi senza giocare ho fatto gol e ora devo lavorare per aiutare la Juve nella prossima partita. La responsabilità fa bene, la concentrazione è molto alta, la pressione c'è sempre giocando in una squadra come questa, sono in una grande squadra con giocatori di alto livello che mi hanno aiutato molto, mi sento molto contento e per me questo è il livello ideale. Quando sei arrivato hai lavorato molto a parte da solo, è stata dura questo periodo? Sì, dura, ho fatto principalmente un lavoro fisico, devo migliorare un po' con il pallone, ma questo avviene solo giocando. Abbiamo molto tempo prima della partita ufficiale, la prima, e bisogna lavorare molto bene. Però mi sento molto bene, abbiamo molto tempo per fare il primo gioco ufficiale della Juve, e sto là a lavorare molto per poter iniziare il campionato molto bene. Tu sai che dopo una partita del genere, un gol del genere, le aspettative, se già erano tante, crescono ancora di più? Sì, io so cosa posso fare, ma non faccio niente da solo, io lavoro per rispondere alle aspettative, so la responsabilità che ho e sono pronto ad assumermela, ma ci sono tanti compagni che mi aiutano e insieme otterremo grandi successi. Grazie a tutti.